Aspetta ma non andiamo a squalo? Aspetta dove è la squalo? Ah là, no. Grotta? Oh Giulio andiamo alla grotta, andiamo alla grotta, io ho trovato il cecchino, ho trovato il lanciaradio, ho trovato il fucile da fatto leggendario, un singolo, andiamo lì Giulio. Vediamo. Allora. Però bisogna attraversarsi, bisogna attraversarsi sennò. Ciao. Ma qui mi stai registrando? Eh bene. Pesce d'aprile. Andiamo in questa casa. Ma ti sei già travestito tu? Io sono già sotto a fare strage. No dai, veramente? Sì. Come sei già sotto? Io sono già sotto a fare strage. No dai, aspetta, aspettami, aspettami. Ti prego, devo fare una cosa prima. Ah, non siamo in safe comunque eh. Sì, lo so che non siamo in safe. Siamo molto fuori safe. Lo so. Dai, aspetta, mi piacere. Arrivo, aspetta. E dai, hai sposto a ti do di lì. Bravo. Mi hai lasciato bastare. Eccomi. Aspetta, vieni qua con me un attimo. Cosa ti serve? Eh, io vado a prendermi la cassa. Suprema. Ehi, ehi. Oh, fucile d'assalto leggendario. Ce l'avevo detto. Ce l'ho anch'io. Ah, bene. Ah, bene. Aspettami un attimo Giulio. Eh, che ti serve? Hai dei, come si dice, scudini? Eh, aspetta, direi. Aspetta, vado per me. Ah no, 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 ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho. Vado io, vado io. Aspetta. Aspetta. Cosa c'è? Ah, niente di particolare. Eh, vediamo qua. Allora, chiamiamo d'occhio il tempo, eh. E dobbiamo arrivare all'elicottero. Sopra c'è uno. Uh, c'è uno. Oddio, 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 c'è uno con la mitragliatrice, eh. Uh, ho trovato la via d'uscita. Bello. Dove è via d'uscita cosa? Via d'uscita. Opla, che stai fuori. No, dai. Aspetta, adesso ritorno. Ah, anch'io ho trovato la via d'uscita, comunque, eh. Io ho la prendo le mie altre armi, altre armi belle. Eh, dietro di te, eccolo lì. Andiamo a una, come si dice, a una mungolfiera. Vediamo se c'è ancora. Sì. Alzati tutto. Ah, ma voglio vedere se vedo qualcuno di basso. Allora, eh. Gli hanno costruito. Però niente le vuole. Aspetta che mi fatti uno scudo. Vai, vai, vai. Sistemati intanto. Ok, io ho 100 di scudo. Perfetto. Allora, lì mi sembra... Da sotto già un nemico. Non sparare. Sarebbe bello però, no, aspetta. Vediamo se ce la facciamo. Tirlo d'occhio. Dove è finita? Eh, non lo vedo. Lo vedo, lo vedo, lo vedo, lo vedo. Lo sa quella roba in mezzo all'acqua? C'è una roba in mezzo all'acqua strana. Non c'era quella roba. Eh, prendo? Aspetta un attimo, voglio vedere se ci arrivo col ciclo. Ah, io sono scelto. Dove è? Dove è? Guardalo lì, come l'ha battuto. Carica, carica. Io lo tengo a bada. Eh, l'ho visto. Eh, non lo vedo più io. Vai. Hai ritrovato, hai ritrovato la roccia, mi sa. Eh, eh, sì, 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 si, si. Trova la roccia. Vai col ciclo. Eh, no, sono fuori. Io li vado da dietro? No, no, sono fuori portato, sono fuori portato, aspetta. Ho mancato, sali. Uè! Aspetta, 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 aspetta. SALI! Vai, 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 vai. Preparati che arriverà gente qua, eh. Ma cosa vuoi prendere l'albero? Aiuto! 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 Eh, eh, dove sei? Sotto l'albero, sotto l'albero! Sotto l'albero, qua! Oddio! Oddio, io ho perso, ho perso tantissimo! Eh, io son morto! Cioè, ho perso tantissimo! Mamma mia, hai mai il kit? No, no, niente. Non è una brutta cosa. Fermo! Siamo salvi! Cosa, 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 cosa! Vai a me! Grazie, vai! Ancora, 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 ancora. Non posso più. Non posso più. Ho finito i colpi. Ah, appena un attimo. Ho finito l'elicottero ancora sopra i elicottero. Eh, sì, è ancora sopra. No, è rimasto sospeso nel vuoto! Ma cosa? Ma cosa? Ma cosa? Ma guarda! Aspetta, aspetta, costruisci, costruisci! Cosa, 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 cosa c'è? Chi c'è? Hai visto qualcuno? Hai visto qualcuno? Ma che voglio ripist... Vai! 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 Sali! Vai! Aspetta! Vai! Io ho perso ancora bene! Vai! Cioè io ho perso ancora la vita! Oggi! Via! C'è la safe! Via! Ma! Entra un minuto la safe! C'è un tizio là sotto che ci spara! Via! Via! Non sull'albero! E che non c'è la terra sull'albero? Guarda che atterraggio di precisione Ernesto! Ah, faccio una strage adesso! Aspetta un attimo! Aspetta un attimo! E ora faccio una strage! Oh, ho trovato un mericchietto! Cosa hai trovato? Cosa hai trovato? Cosa hai trovato? Cosa hai trovato Giulio? Uh! Oh! Cosa hai colpi? No! Aspetta che mi faccio il... Aspetta no! Mi sto facendo il medico! Do you like turkey? Aspetta che guardo... Si ce ne ho quattro! Ah ecco grazie! Ok! I funghetti! I funghetti! Ma perché ti l'hai lasciato a me il lanciaradio? Così intanto... Guarda c'è uno lì! No scherzavo! Non lo spaventa passeri! Dai! Vai in safe! Vai qua! Aspetta c'è una cazza! Hai colpi per cecchino? Vediamo... Si! Sono accorto! Dove sei? Dove sei? Giulio! Giulio! Ci sono i colpi! Ma sei finita? Ah sei di sopra! E dimmelo che sei di sopra! Allora se li porto qua su... Li porto qua su... No! Sono andato giù! Che ha che spara? C'è qualcuno è stato sparato? Eh dai dai colpi cecchino Giulio! Ti do il colpi cecchino! Ti do il colpi cecchino! Oh perfetto! Ho sentito qualcuno sparare prima! Ecco ma! Ecco ma! L'ho visti! L'ho visti! L'ho visti! Sono lì a capire! Occhio! Ah! Che è successo? Oh mio Dio! Oh oh! Esci vecchio! Ma cosa? Fai illegale sta roba! Cos'è niente? Cos'è niente! Sen'è, Tres! Cosa! Cosa! Cosa!